Tre uomini in barca. Esperienze nautiche. Il mattino seguente ci svegliamo tardi e per ardente desiderio di Harris ci dividemmo una colazione frugale non da palati fini. Poi ripulimmo e mettemmo tutto in ordine, un lavoro interminabile che cominciava a permettermi di vedere chiaro su una questione che spesso mi ero posto, vale a dire come faccio a occupare tutto il suo tempo una donna che abbia fra le mani il lavoro di una sola casa. E intorno alle 10 partimmo per quella che secondo noi doveva essere una buona giornata di viaggio. Per cambiare, stanchi di farci trainare, quella mattina decidemmo di remare. Secondo Harris la soluzione migliore era che George e io remassimo mentre lui timonava. La sua idea non mi andò a genio, dissi che ritenevo che avrebbe dimostrato un maggiore spirito di solidarietà suggerendo che lui e George si mettessero al lavoro e lasciando che io mi riposassi un po'. Mi sembrava di fare molto più della mia porzione di lavoro in quel viaggio e cominciavo a essere seccato in proposito. Mi sembrava sempre di star facendo di più di quanto non debba. Non ho nulla contro il lavoro, intendiamoci. Il lavoro mi piace, mi affascina. Posso restare a guardarlo per ore. E mi piace tenermelo accanto. L'idea di separarmene quasi mi spezza al cuore. Il lavoro per me non è mai troppo. Accumularne è diventata per me quasi una passione. Il mio studio ormai è così pieno di lavoro che difficilmente si potrebbe trovare un angolo dove mettercene ancora. Presto dovrò aprire una nuova ala. E lo tratto anche con cura al mio lavoro. Una parte del lavoro che ho da me si trova in mio possesso da anni e anni e sopra non ha nemmeno una ditata. Sono estremamente orgoglioso del mio lavoro. Di tanto in tanto lo tiro fuori e lo spolvero. Nessuno tiene il proprio lavoro in uno stato di conservazione migliore di come faccio io. Ma per quanto ne sia avido mi piace essere giusto. Non ne chiedo più di quanto non me ne aspetti. Tuttavia mi accade di ottenerne senza chiederlo. Così almeno mi sembra. E questo mi preoccupa. Giorgio dice che non pensa che me ne debba angustiare. Secondo lui è la mia natura scrupolosa indurmi a credere di averne di più del necessario. Mentre al contrario non ho nemmeno la metà di quello che dovrei. Ma scommetto che lo dice soltanto per confortarmi. In barca ho sempre notato che l'idea fissa di ogni membro dell'equipaggio è quella di fare tutto lui. Era ad esempio convenzione di Harris di essere stato il solo a lavorare e che Giorgio e io ne avessimo approfittato. Giorgio dalla sua trovava ridicola l'idea che Harris avesse fatto qualcosa di diverso dal mangiare e dormire. E aveva la salda opinione di aver fatto tutto ciò che era degno di essere chiamato lavoro. Disse che non gli era mai capitato di andare in giro con una coppia di fannulloni quali Harris e me. Questo divertì Harris. Strano il vecchio Giorgio che parla di lavoro sghignazzò. Ma se una sola mezz'ora di attività lo ucciderebbe. Hai mai visto Giorgio lavorare? aggiunse voltandosi verso di me. Convenni con Harris che non mi era mai accaduto tantomeno da che avevamo intrapreso il nostro viaggio. Beh non vedo cosa possa saperne tu in un verso o nell'altro rispose Giorgio a Harris. Che mi venga un colpo se non hai passato la metà del tempo a dormire. Hai mai visto Harris completamente sveglio se non nelle ore dei pasti? chiese Giorgio rivolto a me. L'amore del vero mi costringe ad appoggiare Giorgio. Quanto a rendersi utile in barca Harris aveva combinato ben poco fin da principio. Maledizione in ogni caso ho senz'altro fatto più del vecchio Jay. Ribatte Harris. Beh difficilmente avresti potuto fare di meno aggiunse Giorgio. Suppongo che Jay qui si consideri un passeggero proseguì Harris. E quella era la gratitudine che mi dimostravano per aver portato loro e la loro orrenda barca fin lì da Kingston. Per aver sovrinteso e organizzato ogni cosa. Per averli colmati di attenzioni e per aver lavorato come uno schiavo. Così va il mondo. Ponemmo fino alla discussione decidendo che Harris e Giorgio avrebbero remato fino a che non si fosse passato a Reading. Da lì in poi avrei rimorchiato la barca. L'idea di remare per spingere un pesante battello contro una forte corrente oggi riveste ai miei occhi ben poco fascino. Ci fu un tempo molto lontano in cui solevo reclamare per me i lavori più pesanti. Ora preferisco fare largo alla gioventù. Noto che la maggior parte dei veterani sono accumunati dalla stessa ritrosia ogni qual volta ci sia da rimboccarsi le maniche. Si può sempre riconoscere in un uomo l'antica consuetudine col fiume dal modo in cui si sdraia sui cuscini in fondo alla barca e incoraggia i rematori raccontando loro degli aneddoti sulle fantastiche prodezze da lui compiute durante la stagione precedente. E quello che state facendo lo chiamate una faticaccia? Dice con una voce strascicata tra beati sbuffi di fumo rivolto ai novellini sudati che da un'ora e mezza arrancano senza tregua per risalire la collerente. Ma forza Jim Biffis, Jack e io l'anno scorso abbiamo remato da Marlow a Goring in un pomeriggio senza fermarci nemmeno una volta. Te ne ricordi Jack? Jack il quale si è approntato un letto a prua con tutte le coperte e i soprabiti che è riuscito a rastrellare e che sta lì sdraiato a dormire da un paio d'ore e sentendosi interpellato si sveglia a metà e si ricorda tutto di quell'impresa. Persino che c'era una corrente contraria anomala davvero forte durante tutto il tragitto per tacere del vento a sfavore. Devono essere state più o meno 34 miglia, direi, aggiunse il primo impossessandosi di un altro cuscino per metterselo sotto la testa. No, no, non esagerare, Tom, mormora Jack in tono di rimprovero, 33 al massimo. E Jack e Tom, stremati dallo sforzo di quella conversazione, ripiombano nel sonno. I due ingegni novellini che sono ai remi si sentono orgogliosi di avere l'opportunità di trasportare due straordinari assi del remo come Jack e Tom e spingono più che mai. Da ragazzo ero solito ascoltare di questi racconti dai più anziani, me li sorbivo, inghiottivo tutto e non digerivo ogni parola e non ero mai sazio. Ma la nuova generazione non mostra di avere più la semplice fiducia di un tempo. Noi, George, Harris e io, l'anno scorso prendemmo a bordo con noi un canottiere in erba e durante tutto il tragitto lo rimpinzammo con le balle di prammatica sulle prodigiose imprese da noi compiute. Gli propinammo tutte le fandonie classiche, le battute collaudate nel tempo e utilizzate attraverso gli anni da tutti i navigatori del fiume. E ne aggiungemmo sette nuove nuove che avevamo inventato per conto nostro, compresa una storiella alquanto verosimile basata, fino a un certo punto, su un episodio quasi vero che era accaduto su scala diversa, qualche anno prima, a dei nostri amici, una storia alla quale anche un bambino avrebbe potuto credere senza riportare alcun danno. Ma quel giovanotto si burlò di tutto e volle che gli ripetessimo il racconto delle nostre imprese seduta stante, scommettendo dieci contro uno che non era vero niente. Quella mattina chiacchieramo delle nostre esperienze ai remi e ci raccontammo varie storie sui nostri primi sforzi nell'arte di vogare. Il mio primo ricordo del genere risale a quando in cinque, quotandoci con tre pensatesta, ci assicurammo un'imbarcazione della strana fisionomia sul laghetto di Regents Park, finendo successivamente ad asciugarci nel padiglione del custode del parco. Dopo di allora presi gusto all'acqua e mi dedicai alla pratica della zattera in varie cave dei sobborghi, è un esercizio che procura assai più interesse ed emozioni di quanto non si possa immaginare, specialmente quando ci si trova nel bel mezzo dello stagno e il padrone dei materiali con cui si è ricavata la zattera compare all'improvviso sulla riva, brandendo un grosso randello. La prima sensazione nello scorgere quel gentiluomo per un motivo o per l'altro è quella di non essere all'altezza, di socializzare e sostenere una conversazione, tanto che, se si potesse fare senza apparire maleducati, si preferirebbe evitarle di incontrarlo. Di conseguenza il vostro obiettivo diventa quello di guadagnare la riva opposta a quella in cui si trova lui e di sgattaiolare a casa, in fretta e alla chetichella, fingendo di non vederlo. Lui, viceversa, agogna di stringervi la mano e di parlare con voi. Si direbbe che conosca vostro padre e che conosca intimamente anche voi, ma non per questo vi sentite attratti verso di lui. Dice che vi insegnerà lui a prendere le sue tavole per farne una zattera, ma dato che sapete già di esserne più che capaci, l'offerta, benché formulata senza dubbio con le migliori intenzioni, sembra superflua da parte sua e voi siete riluttanti ad arrecaglie disturbo accettandola. La sua ansia di conoscervi, tuttavia, è impermeabile alla vostra freddezza e il suo modo energico di schizzare su e giù per la riva allo scopo di accogliervi nel punto in cui approdate è davvero lusinghiero. Se è un grassone dal fiato corto potete evitare con facilità i suoi approcci, ma quando si tratta di un tipo giovane munito di gambe lunghe l'incontro è ineluttabile. Il colloquio, tuttavia, è sempre molto breve, dato che la maggior parte della conversazione è sostenuta da lui, mentre il vostro contributo è più che altro di carattere esclamatorio e monosillabico e non appena ne avete l'opportunità ve la date a gambe. Mi dedicai per circa tre mesi allo sport della zattera, dopodiché, divenuto abile quanto bastava in quella branca dell'arte nautica, decisi di interessarmi al canottaggio propriamente detto e mi iscrissi a uno dei circoli del Lea. Uscire in barca sul fiume Lea, specialmente il sabato pomeriggio, vi rende presto assai provetti nel governo di una barca e svelti nell'evitare di essere travolti da qualche zoticone o di essere investiti dalle chiatte. Non mancano inoltre le occasioni per imparare il metodo più rapido e aggraziato di appiattirsi sul fondo dell'imbarcazione per fare a meno di essere scaraventati in acqua dai cavi di rimorchio dei natanti di passaggio. Ma non vi dà lo stile. Io non l'acquistai fino a quando non andai sul Tamigi. Il mio stile ai remi ora è molto ammirato, la gente dice che è tanto originale. Prima dei 16 anni Giorgio non si era mai avvicinato all'acqua. Lui e altri otto gentiluomini più o meno della stessa età un sabato se ne andarono in gruppo a Q, con l'idea di noleggiare lì una barca e di remare fino a Richmond e ritorno. Uno della comitiva, un ragazzo dai capelli arruffati di nome Joskin, che una volta o due era uscito in barca sul Serpentine, disse ai compagni che il canottaggio era divertentissimo. Il livello dell'acqua stava calando rapidamente quando arrivarono all'imbarcadero e attraverso il fiume soffiava un vento rigido, ma i ragazzi non se ne preoccuparono affatto e procedettero a scegliere una barca. C'era una canoa bilanciere a otto remi da competizione ormeggiata sulla banchina e fu quella a colpire la loro fantasia. Dissero che per piacere desideravano quella. Il barcaiolo era via e di guardia c'era il suo ragazzo. Questi cercò di smorciare il loro entusiasmo per la barca da corsa e mostrò a loro due o tre barche dall'aria molto comoda progettate per le gite familiari, ma loro non ne vollero sapere. Ritenevano che avrebbero figurato meglio sulla canoa bilanciere. Così il ragazzo l'ammainò mentre George e i suoi amici si toglievano la giacca, preparandosi a prendere posto. Il ragazzo suggerì che George, il quale anche a quei tempi era sempre più pesante in qualunque gruppo, facesse da quarto. George disse che sarebbe stato felice di fare da quarto e andò prontamente a sistemarsi a prua, sedendosi con le spalle alla poppa. Alla fine fu condotto al posto giusto e poi seguirono gli altri. Un ragazzo particolarmente nervoso fu nominato timoniere, dopo che Joskin gli ebbe illustrato le fondamenta delle manovre nautiche. Lo stesso Joskin si mise a capovoga. Disse agli altri che era piuttosto semplice, non dovevano fare altro che imitare lui. Gli altri dissero di essere pronti e il ragazzo dell'imbarcadero preso una gaffa e li spinse via. George non è in grado di descrivere nel dettaglio quel che seguì. Ah, il vago ricordo di aver ricevuto un violento colpo in mezzo alla schiena, proprio mentre partivano, dall'impugnatura del remo del numero 5, nel medesimo istante in cui il sedile sembrava scomparirgli di sotto per magia, lasciandolo seduto sulle assi dello scafo. Notò inoltre, come fatto curioso, che il numero 2 si trovava allo stesso momento sdraiato sulla schiena sul fondo della barca, con le gambe all'aria, apparentemente in preda a un attacco epilettico. Passarono di traverso sotto il ponte di Kew, a una velocità di 8 miglia orarie, con Joskin che era l'unico a remare. George, riguadagnando il proprio sedile, cercò di aiutarlo, ma non appena immerse il remo nell'acqua, con la sua intensa meraviglia, questo sparì sotto la barca e per poco non si trascinò dietro anche lui. Il timoniere gettò entrambi i fermi del timone fuori bordo e scoppiò in lacrime. Come riuscirono a rientrare, George non lo seppe mai. Ma ci misero 40 minuti esatti. Una nutrita folla assisteva allo spettacolo con grande interesse dal ponte di Kew e ciascuno gridava istruzioni differenti. Per tre volte riuscirono a riportare la barca dall'altra parte del ponte e per tre volte furono trascinati di nuovo sotto la sua arcata e ogni volta il timoniere alzava gli occhi e, vedendosi il ponte sopra la testa, rinnovava i suoi singhiozzi. George dice che quel pomeriggio non avrebbe certo creduto di poter mai apprezzare veramente il canotaggio. Harris è più abituato a remare in mare piuttosto che sul fiume e dice che come esercizio lo preferisce. Io no. Ricordo di essere uscito con una barchetta a Iceborne l'estate scorsa. Anni prima avevo remato parecchio in mare e credevo di cavarmela bene, invece mi accorse che ne avevo completamente dimenticato l'arte. Quando uno dei remi era immerso a fondo nell'acqua, l'altro si agitava scompostamente in aria. Per far leva nell'acqua simultaneamente con ambedue i remi ero costretto ad alzarmi in piedi. La passeggiata era affollata di aristocratici e snob e io dovetti passare davanti a tutti, in quella posizione ridicola. Giunto a metà spiaggia approdai e mi assicurai i servizi di un vecchio barcaiolo perché mi portasse indietro. Mi piace guardare un vecchio barcaiolo che rema, soprattutto quando è stato ingaggiato a ore. Nel suo metodo c'è qualcosa di meravigliosamente calmo e riposante. È così libero da quella fretta febbrile, da quella foga veemente che ogni giorno più va diventando la calamità del XIX secolo. Egli non si affanna a sorpassare le altre barche. Se un'altra barca lo raggiunge e lo sorpassa, lui non se la prende. Anzi, tutte le altre barche lo raggiungono e lo sorpassano, tutte quelle che percorrono la sua rotta. Alcuni ne sarebbero contrariati e irritati, ma la sublime equanimità del barcaiolo ingaggiato a ore e messo alla prova costituisce una splendida lezione per gli ambiziosi e i superbi. Non è difficile acquisire l'arte necessaria a spingere avanti la barca, ma occorre una gran pratica prima che un uomo si senta a proprio agio quando rema davanti a delle ragazze. È il ritmo che preoccupa il principiante. È proprio curioso, dice, mentre per la ventesima volta nell'arco di cinque minuti disincaglia il suo remo dal vostro. Quando sono da solo me la cavo benissimo. Vedere due novizi che cerchino di andare in sincronia e da morire dal ridere. Quello che aprua trova impossibile uniformarsi al compagno, poiché questi rema in modo stranissimo. Dalla sua il capovoga si indigna e spiega che da dieci minuti non fa altro che sforzarsi di adattare la propria remata alla limitata paralizia del compagno. Poi tocca a quello aprua di sentirsi offeso e invita il primo a non cervellarsi per lui, ma di concentrarsi sul tentativo di prendere un ritmo decente. Ma vuoi che venga io a poppa? Aggiunge con l'evidente convenzione che questo possa ad un colpo risolvere la questione. Sollevano spruzzi per un altro centinaio di yard e sempre con un successo assai modesto. Poi il capovoga ha un'illuminazione che gli rivela la causa di tutte le loro difficoltà. Te lo dico io cos'è che non va? Tu hai i miei remi! grida a quello di prua. Facciamo scambio! Beh, lo sai che mi stavo proprio domandando perché non riuscivo a manovrare questi? risponde l'altro rasserenandosi e procedendo speranzoso allo scambio. Adesso sarà un'altra cosa. Invece non è così, nemmeno allora. Adesso il capovoga tende a allungare le braccia quasi fino a slogarsele per portare avanti i suoi remi, mentre quelli dell'altro a ogni recupero gli assestano un violento colpo nel petto. Allora fanno di nuovo a cambio e giuncono alla conclusione che il barcaiolo ha dato loro i remi di un'altra barca. Sul mutuo inveire contro quell'uomo stabiliscono una comune armonia. Giorgio disse che per cambiare aveva desiderato spesso di navigare su un'imbarcazione piatta, di quelle che si spingono con la pertica. Ma non è semplice come sembra. Come per il remare si impara presto a procedere manovrando la barca, ma ci vuole una lunga pratica prima di riuscire a farlo con dignità e senza riempirsi d'acqua le maniche. A un giovanotto che conoscevo capitò un incidente molto triste, la prima volta che si cimentò con la pertica. Aveva incominciato così bene che era diventato fin troppo sicuro di sé e si muoveva su e giù per l'imbarcazione manovrando la pertica con una grazia disinvolta che era affascinante a vedersi. Saliva a prua, puntava alla pertica, poi correva giù a poppa, proprio come un veterano di quel genere di barca. Oh, era uno spettacolo superbo! E avrebbe continuato a essere superbo se malauguratamente, mentre si voltava per ammirare il panorama, non avesse fatto un passo più del necessario, andando a finire fuori bordo. La pertica era saldamente piantata nel fango ed egli vi rimase abbarbicato, mentre la barca andava alla deriva. Era una posizione poco decorosa per lui, un ragazzino maleducato che era sulla riva, si mise subito a strillare a un amico un po' tardo di sbrigarsi se voleva vedere una vera scimmia arrampicata in cima a un palo. Non potevo accorrere in suo aiuto, poiché disgraziatamente non avevamo preso la logica precauzione di portare con noi una pertica di riserva. Non potei fare altro che restare seduto a guardarlo. Non dimenticherò mai la sua espressione, mentre lentamente colava a picco insieme alla pertica, era più eloquente di qualunque discorso. Lo guardai mentre si immergeva pian piano per poi vederlo riemergere triste e zuppo. Non potei fare a meno di ridere, quanto era ridicolo. Continuai a sghignazzare fra me e me per un po', finché all'improvviso non mi resi conto che a ben pensarci in realtà avevo pochissimo da stare allegro. Infatti mi trovavo lì, solo sulla barca e senza pertica, alla deriva in mezzo al corso, forse diretto verso una chiusa. Cominciai a provare una viva indignazione verso il mio amico che se ne era andato fuori bordo piantandomi in asso a quel modo. Avrebbe almeno potuto lasciarmi la pertica. Seguitai ad andare alla deriva per circa un quarto di miglio, poi avvistai un battello da pesca ancorato in mezzo al fiume con due vecchi pescatori. Questi videro che mi avvicinavo velocemente dritto verso di loro e mi gridarono di girare a largo. Non posso, urlai di rimando. Ma se non ci sta nemmeno provando, risposero quelli. Quando fui più vicino illustrai loro la situazione. Così mi afferrarono con un arpione e mi allungarono una pertica. La chiusa distava appena 50 yard. Ringrazio il cielo che quelli si trovassero proprio lì. La prima volta che navigai su una barca con la pertica ero in compagnia di tre amici. Dovevano insegnarmi come si faceva. Non potemmo partire tutti assieme, perciò dissi che sarei andato avanti per primo e che avrei preso un battello in modo da fare un po' di pratica in attesa del loro arrivo. Quel pomeriggio non riuscii a trovare nessuna barca perché erano tutte occupate. Non mi rimase perciò altro da fare che sedermi sulla riva a guardare il fiume aspettando i miei amici. Ero lì da poco quando la mia attenzione fu catturata da un uomo che navigava aiutandosi con la pertica, il quale, come notai con una certa sorpresa, portava una giacca e un berretto identici ai miei. Era evidentemente un novizio della pertica e la sua prova era interessantissima. Non si riusciva mai a prevedere quel che sarebbe accaduto quando immergeva la pertica ed era evidente che non lo sapeva neppure lui. A tratti risaliva la corrente e in altri momenti la discendeva. Altre volte ancora si limitava a girare intorno alla pertica e qualunque fosse l'esito delle sue manovre sembrava ugualmente sorpreso e infastidito. Dopo un poco stui monopolizzò l'attenzione della gente a riva che prese a scommettere sulla direzione che avrebbe preso dopo ogni spinta. Nel frattempo sulla sponda opposta alla mia sopraggiunsero i miei amici e anche loro si fermarono a guardarlo. Il giovanotto dava loro le spalle cosicché non ne vedevano che la giacca e il berretto. Dal che saltarono immediatamente alla conclusione che fossi io, il loro diletto compagno che stava dando prova di sé e la loro ilarità non conobbe limiti. Cominciarono a sbeffeggiarlo senza pietà. Da principio non mi resi conto del loro errore e pensai che comportamento da cafoni per giunta con un perfetto sconosciuto. Ma prima di riuscire a chiamarli per un rimprovero compresi come stavano le cose e mi nascosi dietro un albero. Oh, come si divertivano a mettere in ridicolo quel giovanotto! Per cinque minuti buoni rimasero lì a gridagli e ribalderie a delirio e prendersi gioco di lui sghignazzando alle sue spalle. Lo ricoprirono di beffe obsolete e ne inventarono persino di nuove da lanciargli dietro. Gli scagliarono contro tutti i lazzi noti alla nostra cerchia che, per lui, dovettero essere assolutamente incomprensibili. Finché, incapace di sopportare oltre quelle erisioni grossolane, si voltò verso di loro e lo videro in faccia. Fui lieto di notare che ebbero abbastanza pudore da rimanere confusi. Gli spiegarono che credevano si trattasse di un loro conoscente. Dissero che speravano che non li reputasse capaci di insultare qualcuno che non fosse un loro intimo amico. Naturalmente, il fatto di averlo scambiato per un amico li giustificava. Ricordo che Harris una volta mi raccontò di un'esperienza a corsa di mentre faceva il bagno a Boulogne. Stava nuotando in prossimità della spiaggia quando a un tratto si sentì afferrare da dietro per il collo e immergere a forza sott'acqua. Si dibatte violentemente, ma chiunque l'avesse ghermita aveva la forza di un vero Ercole. Così, tutti i suoi sporci per divincolarsi furono vani. Aveva già rinunciato alla lotta e tentava di rivolgere la mente a pensieri solenni, quando il suo catturatore lo lasciò andare. Harris riacquistò a una posizione verticale e si voltò per vedere il suo potenziale omicida. L'assassino era in piedi accanto a lui e rideva di cuore, ma non appena scorse la faccia di Harris che emergeva dall'acqua arretrò con aria costernata. Le chiedo davvero perdono, farfuglia confuso, ma l'avevo scambiata per un mio amico? Harris ringraziò al cielo che quell'uomo non avesse scambiato per un parente o probabilmente sarebbe affogato sul serio. Andare a vele è un'attività che richiede conoscenza e pratica, sebbene da ragazzo non la pensassi così. Ero dell'idea che riuscisse naturale come fare le capriole o come il senso del tatto. Conoscevo un altro ragazzo che la pensava così, quindi in una giornata ventosa decidemmo di provare quello sport. Ci eravamo fermate a Yarmouth e decidemmo di fare una gita risalendo lo YAR. Noleggiamo una barca a vela al cantiere vicino al ponte e partimmo. È una giornataccia, ci disse il barcaiolo mentre ci allontanavamo. Vi conviene portare un terzarolo e orzare quando è arrivata la curva. Diciamo che ne avremmo fatto tesoro e lo lasciamo con un ungaio buongiorno, chiedendoci come si facesse a orzare e dove mai potessimo prendere un terzarolo e che cosa ne avremmo fatto quando anche fossimo riusciti a procurarcelo. Remammo finché la città non fu sparita ai nostri sguardi, poi con un immenso tratto di fiume davanti a noi e col vento che soffiava di traverso con la forza di un uragano sentimmo che era venuto il momento di incominciare le operazioni. Hector, mi sembrava che si chiamasse così, continuò a remare mentre io srotolavo la vela. Sembrava un lavoro complicato ma alla fine ci riuscì, ma sorse il problema di quale fosse l'estremità superiore. Grazie a una sorta di stinto naturale infine stabilimmo che il fondo era la cima. Ci mettemmo dunque all'opera per rissare la vela a capovolta. Ma prima che riuscissimo a tirarla su, in un verso o nell'altro, passò un bel po' di tempo. L'impressione che la vela dava era quella di essere convinta che stessimo giocando al funerale e che io fossi la salma mentre lei era al sudario. Quando si accorse che l'idea non era quella, mi colpì in testa con il boma e si rifiutò di collaborare. Bagnala, disse Hector, mettila nell'acqua e falla inzuppare. Disse che i marinai bagnano sempre le vele prima di sarle. Perciò la bagnai, ma questo non fece altro che peggiorare la situazione. Una vela asciutta che vi si attorciglia alla gamba e vi avviluppa la testa non è piacevole, ma quando la vela è fradicia, la cosa diventa proprio seccante. Alla fine in due riuscimmo a essarla, la fissammo non proprio capovolta, piuttosto di traverso, e la legamo all'albero con una cima che tagliamo apposta. Il fatto che la barca non si rovesciò è un fenomeno di cui mi limito a prendere atto. Non so spiegarlo in alcun modo. Poi ci ho pensato molte volte da allora, ma non sono mai addivenuto a una spiegazione soddisfacente. Forse giungemo a quell'esito grazie alla naturale ostinazione di tutte le cose di questo mondo. È probabile che la barca, osservando superficialmente il nostro comportamento, dovette concludere che eravamo usciti con l'intenzione di suicidarci e decise quindi di conseguenza di deluderci. È l'unica ipotesi che io sia in grado di avanzare. Aggrappandoci con tutte le nostre forze al parapetto, riuscimmo a rimandare dentro la barca, ma fu una fatica estenuante. Hector disse che i pirati e gli altri lupi di mare durante le bufere più violente, in genere legavano da qualche parte la barra del timone e serravano il fiocco. Riteneva che avremmo dovuto cercare di fare qualcosa di simile, ma io preferì rimettermi al vento. Dal momento che la mia tesi era la più facile a seguirsi, finimmo per adottarla e ci mantenemmo avvinghiati al parapetto lasciando che facesse di testa sua. La barca risalì la corrente per circa un miglio, a una velocità che dopo di allora non ho mai più provato a vela e che non rimpiango. Poi a una curva si inclinò finché metà della vela non fu sommersa, quindi si raddrizzò per miracolo e filò lui verso un lungo banco di melma. Quel banco di melma fu la nostra salvezza, la barca riuscì a farsi strada fino al suo centro, poi si incagliò. Non appena ci accorgemmo di essere di nuovo in grado di muoverci, in accordo con le nostre idee, invece di venire sbatacchiati e scossi come piselli in una zucca, strisciamo in avanti e ammainammo la vela. Di andare a vela ne avevamo avuto a sufficienza, non volevamo esagerare per non nausearcene. Avevamo fatto un giro splendido, emozionante e interessante e ora, per variare, avremmo fatto una bella remata. Prendemmo i remi e cercammo di disincagliare la barca dal fango, ma nel tentativo ne spezzamo uno. Procedemmo allora con grande cautela, ma quei remi erano scassati e vecchi e il secondo si spaccò ancora più facilmente del primo, lasciandoci del tutto inermi. La melma si estendeva davanti a noi per circa un centinaio di giarde e alle spalle avevamo l'acqua. Non potevamo fare altro che sederci e aspettare che passasse qualcuno. Non era quel tipo di giornata che attrae una folla sul fiume e trascorsero tre ore prima che spuntasse anima viva. Si trattava di un vecchio pescatore che con enormi difficoltà alla fine ci trasse in salvo, così fummo ignominiosamente rimorchiati fino al pontile. Fra la mancia all'uomo che ci aveva riportati indietro il risarcimento per i remi spaccati e l'uscita di quattro ore e mezzo, quella gita a vela ci costò un considerevole numero di paghette settimanali, ma ne ricavammo dell'esperienza per la quale, dicono, non ci sia mai prezzo.